Il botte e risposta degli ultimi giorni tra il presidente di Federalberghi Salerno, Giuseppe Gagliano, e il comune sui meriti del boom di turisti e del tutto esaurito in città e provincia non si ferma. Gagliano aveva accusato l'ente di non aver menzionato lo sforzo degli addetti ai lavori. In questi mesi la replica del comune ha però rincarato la dose, elencando quanto fatto per aiutare commercio e turismo. Non si è fatta attendere la controdisposta di Gagliano, che ha parlato di polemiche inutili. L'importante è che la collaborazione prosegua a puntare sull'importanza della progettualità e anche Raffaele Esposito, presidente di Confesercenti Salerno. Dobbiamo lavorare, lo faremo come al suo turismo Confesercenti, provinciale di Salerno, perché favoriremo una serie di progettualità anche in ambito camerale, per garantire formazione, per garantire assistenza alle nostre imprese che non dovranno chiudere, ma dovranno lavorare nell'ottica della riapertura dell'aeroporto di Salerno. La stagione turistica può dare sollievo, ma servono nuove iniziative per sostenere le imprese dopo la pandemia. Lavoreremo sui concetti di accoglienza e ospitalità. Attraverso la qualità possiamo garantire dei soggiorni piacevoli ai nostri ospiti. Lavoreremo per garantire una politica del sossegno vera e effettiva, perché nessuna impresa dovrà chiudere, ma tutte le imprese dovranno essere accompagnate per riqualificarsi e per tornare ad essere vive. Maggiore sossegno per le attività commerciali di vicinato, quelle ambulanti, per il settore turistico e dei servizi.